Presentata da Citrezza la settima edizione della veleggiata Rotta dei Lupini, sull'argomento abbiamo sentito gli organizzatori che ci hanno dato alcune anticipazioni. Siamo alla settima edizione della Rotta dei Lupini, nata appunto sette anni fa da un'idea del Presidardita. Dal Presidardita questa idea di legare la tradizione del nostro territorio con la Rotta dei Lupini, quindi con la storia dei Malavoglia, alle regate veliche, quindi alla manifestazione sportiva e al turismo e quindi cercare di promuovere il territorio con la nostra tradizione che è appunto il racconto dei Malavoglia. Quindi letteratura e sport che si uniscono con la passione del mare? Assolutamente sì perché comunque ci riferiamo a quello che è sicuramente un monumento della letteratura per ciò che riguarda il mare, per ciò che riguarda la tradizione della pesca, che è il mare con il suo essere da un lato speranza, da un lato vita, dal lato morte e tragedia come per i Malavoglia. Quali saranno i momenti più importanti di questo evento? Allora sicuramente i momenti, quest'anno si svilupperà in due giornate, normalmente gli altri anni c'è stata la manifestazione la domenica con la partenza dietro l'isola Lachea, quindi già con una cornice particolare e l'arrivo a riposto, passando quindi attraverso tutta la timpa di Aci è sicuramente uno dei posti più spettacolari che abbiamo per chi ha il piacere di navigare sulla nostra costa. Quest'anno invece c'è un prologo con l'arrivo di alcune imbarcazioni al porto di Acitrezza, saranno ospiti del comune di Acitrezza presso il porto. Altra particolarità di quest'anno è che tra chi ci sta accompagnando in questo progetto abbiamo l'autorità portuale di Catania, che è un segnale forte per ciò che riguarda la vicinanza dell'autorità portuale ai circoli di porto e soprattutto ai circoli velici catanesi, tant'è che vuole premiare il circolo che meglio rappresenterà il porto di Catania. Qual è il rapporto tra l'area portuale di Catania e le associazioni di porto, i circoli di porto? Sicuramente è un grande legame culturale e di grande amore per il mare e quindi per la portualità. I circoli nostri fanno parte della nostra comunità portuale, che è una grande comunità, perché non ci occupiamo solo di contene o di navi da cosciere, ma chiaramente il di porto è uno degli elementi più importanti che noi privilegiamo, cerchiamo di diffondere anche, e quindi la presenza nostra è una presenza tangibile di grande affettuosità nei confronti di questi circoli e soprattutto il grande amore per il mare e per la portualità. Gli sbarchi dei migranti in questo momento rappresentano un problema? È una grande missione e noi a cui partecipiamo con grande sacrificio e spirito di servizio. È una storia importante, c'è un'umanità itinerante che noi stiamo cercando nel nostro piccolo di dare il nostro supporto e la città di Catania insieme al porto ha risposto in maniera adeguata.